Possiamo fermare tante guerre che stiamo vedendo tutti i giorni, in tutti i giornali. Il gesto del Papa è un gesto forte? È uno, direi. Non ho visto un Papa con tanto, con tanto, tanto, tanto quello che sai te, e sappiamo tutti, come questo, perché gli altri sicuramente avessero guardato per l'altra parte. È commosso di aver parlato con voi? È commosissimo io di abbracciarlo, di sentirmi argentino e di sentire e di ritornare all'iglesia dopo avermi allontanato per mia madre, quando se l'ha portato Dio. Però oggi sono contento di rincontrarmi con la Chiesa, con Franceschito, e giocare per la pace. Grazie.